5, 4, 3, 2, 1 40, 41, non so come si chiama, 40 E 41, infatti vuole scattare questo posto unico nel suo genere Disegnato da Ledergezio 40, 40, 40, 40 40, 45, 45, 45, 45, 45, 45 Ciao Martino, come stai? 50, 50, 50 Direi che possiamo fermarci se non ce l'avete in Toscali Pagate delle cambiate 51, 52, 53 Spiegaci, un pezzo direi raro E' un fiocchetto come questo signor, io non posso partire da 10 euro Mi dispiace veramente ma io 10 euro non posso Mi vergogno, mi vergogno Parto io da 25, anzi no, voglio rovinarmi Parto io da 30 euro Bene, te, 30 euro 35, 35 Leonardo Riccardi, 40, 40, il signore là si vuole giudicare tutto, vuole portare a casa tutti i pezzi rari, c'ha un salone gigantesco, secondo me vuole appenderli là nella sala della sua casa, 40, 41, 41, c'hanno 45, Stefano Zocchi è anche lungo la sua casa, secondo me un pezzo come questo, non se ne vuole lasciare scappare, e siamo a 45 Stefano Zocchi, 50, siamo a 50, e qui se ne rubo l'uno con l'altro, vedo una banda di tirchi che non alza la mano, lì c'è un gruppettino, eppure avete vinto le buste oggi? Siamo a 45 ragazzi, siamo a 45? Siamo a 50, 50, 50, 50, sono tutti i pezzi che valgono questo centro, 51, 52, nessuno altro di più, C'è un conto giudicato!